Musica Possiamo chiederci perché la carenza di denaro atrofizzi i nostri sforzi e le nostre iniziative, quando invece viviamo in un mondo dove vi è abbondanza di cose che si potrebbero fare o hanno bisogno di essere fatte. E altrettanta abbondanza di persone che le vorrebbero fare, la risposta a questa domanda ha a che fare con le caratteristiche e finalità del tipo di moneta che usiamo nel nostro sistema monetario, che è la fonte della scarsità di cui hanno esperienza così tante persone ed è la radice di un grande numero di problemi.